Ciao a tutti da Lorian all'interno di Enel Green Power Domani finalmente si riparte per riprendere la rotta del room è stata un'attesa piuttosto lunga la meteo sicuramente è meglio rispetto a quella che hanno preso e che stanno prendendo gli altri che sono in mare chapeau a loro perché veramente tosti domani saremo in circa 10-15 più o meno a partire quindi rinizia una regata nella regata continuate a seguirci e le prossime news saranno dal mare ciao a tutti